negli atti c'era scritto che a rosa erano state ripetute tutte le dichiarazioni del marito agli atti c'era scritto che l'avvocato troiano non solo non si era opposto alla rilettura ma addirittura si era premurato che rosa confermasse la versione esatta del marito perché rosa stava confermando la versione sbagliata che gli veniva riletta questo è tutto agli atti e nei verbali e negli interrogatori atti e interrogatori che nessun giornalista all'epoca si prese la briga di leggere ascoltare e lasciò così l'avvocato troiano mentire in maniera spudorata davanti all'opinione pubblica sono di nuovo qua con l'ottimo giornalista edoardo montolli che insieme al suo collega felice manti esce con un nuovo libro su l'inde rosa dopo il grande abbaglio libro di cui abbiamo già parlato ciao benvenuto edoardo ciao grazie a te grazie a te in realtà perché torniamo a parlare di una cosa che si è anche chiacchierata ultimamente visto che ci sono degli sviluppi sul piano giudiziario e io diciamo ho questo libro tra le mani che è un nuovo libro ecco lo dico subito non è una riedizione rispolverata del grande abbaglio ma è proprio qualcosa di nuovo e l'ho letto con piacere soprattutto inizio da questo nel libro c'è una prefazione un'introduzione del magistrato tarfusser che appunto ha depositato anche lui una richiesta di revisione del processo ho trovato quelle parole veramente sconcertanti in generale diciamo per la giustizia e molto importanti ecco secondo me è stato un contributo molto di peso io credo che sia l'aspetto decisivo per prendere in considerazione la revisione del processo su l'indoromano e rosa bazzi e cioè che un magistrato di tale elevatura già vicepresidente della corte penale internazionale abbia deciso di presentare richiesta di revisione a cui poi si sono aggiunte quelle della difesa tarfusser scrive nella prefazione di aver cominciato ad interessarsi al caso proprio dopo aver letto il grande abbaglio e questo per noi è motivo di orgoglio professionale insomma no che una personalità del genere abbia iniziato ad approfondire la vicenda proprio leggendo la nostra controinchiesta anche perché all'epoca noi fummo letteralmente travolti dalle polemiche e presi a bersaglio esattamente come lo furono gli avvocati e ovviamente gli imputati diciamo che l'idea di questo nuovo libro nasce da un fatto ben preciso ovvero dopo che tarfusser depositò la sua richiesta di revisione inizialmente alla procura generale di milano il procuratore generale di milano francesca nanni rilasciò un'intervista al giornale nel quale si diceva certa che non ci fossero nuove prove e che tutto fosse stato già ampiamente dibattuto ai processi ora questo semplicemente non è vero e ne sono testimone diretto perché buona parte delle scoperte su che poi sono diventate nuove prove le abbiamo fatte io e felice manti nel corso dei processi ma non sono mai entrati nei processi mi riferisco ad esempio agli audio di mario frigerio nel quale il testimone non ricordava assolutamente nulla dell'aggressione nonostante il riconoscimento ufficiale fosse del 20 dicembre 2006 davanti al comandante gallorini ci sono degli audio dei giorni successivi in cui non ricordava assolutamente nulla e questi audio li abbiamo scoperti noi a processi in corso e non sono mai entrati al processo così come l'incontro segreto che mario frigerio ebbe con i carabinieri il giorno prima che arrivassero da lui i pubblici ministeri e che non è agli atti ma l'abbiamo scoperto da intercettazioni successive io lo scoprì questo fatto alla vigilia della cassazione e quindi è materiale che non è mai stato valutato dai giudici né di merito né di legittimità quindi questa è la ragione per la quale abbiamo voluto raccontare che cosa entrò davvero nel fascicolo del dibattimento e che cosa non vi entrò spiegando poi quali siano le nuove prove quanto incidano sulle sentenze e in una terza parte cerchiamo di ricostruire cosa accadde davvero l'11 dicembre 2006 nella corte di via di azza erba ecco secondo me varrebbe la pena di spiegare un attimo l'importanza del fatto che ci siano nuove prove perché è un tecnicismo anche se vogliamo nel senso questo è necessario per poter poi eventualmente ottenere anche la possibilità di avere una revisione cioè non si può avere una revisione se non ci sono nuove prove rispetto a quelle analizzate durante il processo che si è concluso e che quindi insomma ha avuto il suo esito corretto sì sì ma le nuove prove sono diverse ci sono sette consulenze c'è ci sono due nuovi testimoni e sul materiale che non è mai entrato a processo sono sono emerse alcune cose che avevamo scoperto tipo gli audio di frigeri in cui lui non ricordava nulla il l'incontro segreto con con il comandante gallorini sulla macchia di sangue dell'auto c'è una consulenza del genetista marzio capra che mette addirittura in dubbio il fatto che ci fosse una macchia di sangue su quella su quella macchina emergono una serie di cose che a processo non sono mai emerse ovvero una lunghissima serie di contraddizioni da parte del brigadiere carlo fadda che è il brigadiere che reperto la macchia di sangue sull'auto e che però su quel verbale non sapeva molto altro come raccontiamo nel libro rispetto a quello che ha detto in aula rispetto a quello che aveva verbale lui non sapeva quante foto fossero state scattate non sapeva l'ordine delle foto non sapeva che l'ordine delle tracce era stato invertito non sapeva neanche che a fare quei lavori non era da solo perché c'era sicuramente un'altra persona con lui come si evince da una fotografia degli stessi carabinieri e da un audio perché l'auto di olindo era intercettata quella repertazione fu fatta senza i cartellini di repertazione il verbale di fadda fu trovato dalla difesa bianco e ci sono una ulteriore lunga serie di contraddizioni non sapeva gli orari in cui iniziarono i lavori non sapeva la targa dell'auto e li abbiamo messi in evidenza quasi tutte le contraddizioni del brigadiere fada credo più o meno tutte insomma ecco queste sono anche queste nuove prove perché non se ne è mai discussa il processo di questa cosa la terza cosa riguarda le confessioni ovvero una frase in particolar modo mai trascritta da parte dei pubblici ministeri che chiesero a olindo romano come fossero vestite le vittime questa frase a verbale trascritta poi veniamo alle questione in realtà la frase nell'audio originale era poi veniamo alle altre foto e questione la frase alle altre foto fu tagliata quindi in quel momento l'indo romano stava guardando le fotografie perché però è particolarmente importante quella frase in quel momento specifico dell'interrogatorio per un fatto molto semplice nel processo di primo grado il pubblico ministero Massimo Astori disse che olindo romano e rosa bazzi avevano messo la loro firma sui delitti parlando dei cuscini i cuscini che non erano mai citati negli atti e che loro dissero di aver spinto sul volto di paola galli e di raffaella castagna per cercare di ucciderle perché non volevano morire in realtà anche questo fatto e dice che non se ne parlava mai negli atti erano loro che ne parlavano per la prima volta in realtà anche questo fatto è sintomo della confessione falsa da parte di olindo romano e rosa bazzi perché da nessuna parte è scritto che le vittime morirono soffocate ma la cosa importante è che in quel momento il pubblico ministero nel momento in cui c'è quella frase non trascritta aveva chiesto a olindo romano come fosse vestita a paola galli e olindo romano quindi stava guardando una fotografia quando descriveva l'abbigliamento di paola galli il punto quale è che proprio in quella fotografia davanti a paola galli c'erano quei cuscini mai citati negli atti questa è la ragione per la quale loro parlano per primi di cuscini che non sono citati negli atti ma che appaiono in bell'evidenza nelle fotografie mostrate dai pubblici ministeri nel corso degli interrogatori e dei cuscini invece presuntamente ritrovati in disordine a casa di olindo e rosa no a casa di olindo e rosa non ci sono cuscini in disordine ci sono i cuscini in disordine in casa di raffaella castagna ok io mi sembra magari mi sbaglio di aver letto da qualche diciamo rilancio di stampa la possibilità che fossero stati trovati questi cuscini come unico elemento di disordine in una casa no a casa di olindo e rosa era assolutamente perfetta i panni vennero sequestrati la notte stessa della strage i panni appena lavati cinque giorni dopo la strage si sapeva già che non c'era sangue delle vittime su quei panni venne sequestrato anche il cerotto che aveva al dito rosabazzi e anche in quel caso non c'era su dna delle vittime non c'è nient'altro diciamo che quando il 20 dicembre il comandante Gallorini va da Frigerio a chiedergli se l'aggressore potesse essere olindo contro la coppia non c'era assolutamente nulla se non il movente abnorme di liti condominali ma lui già sapeva perché lo aveva scritto nel suo rapporto del 16 dicembre che su quei panni non c'era sangue i famosi panni della lavatrice che alle 3 di notte delle quali tuttora parlano dopo 17 anni dicendo che lavava il sangue in realtà da 5 giorni dopo la strage si sapeva questa cosa e il comandante Gallorini ebbe invece questa intuizione dove a fronte di tutta una serie di elementi che portavano altrove andò a chiedere a Mario Frigerio se quell'uomo olivastro più alto di lui con capelli neri quasi rasati esperto di arti marziali non potesse, e mai visto prima non potesse essere il vicino di casa notissimo, bianco, più basso di lui e per il quale evidentemente le arti marziali erano un altro mondo ecco prima di arrivare a questi altri dettagli io ho trovato molto interessante quello che viene raccontato in questo libro perché diciamo che c'è un bello spaccato di quello che era la stampa in quell'epoca quindi a ridosso dei fatti all'inizio e durante il processo che cosa è successo? perché il processo viene in una cittadina in una città di Como che è tutto sommato piccola su cui insistono ovviamente anche lì dei giornali che sicuramente sono particolarmente efficaci sulla popolazione locale da cui tra l'altro vengono estratti anche i giudici popolari di cui tra l'altro credo che almeno un paio siano proprio di erba se ho capito bene quindi c'è tutto un sistema di cose che ha portato anche la difesa a un certo punto a tentare di ricusare i giudici perché effettivamente la stampa ha avuto un ruolo nell'influenza della percezione anche da parte della Corte? Sì, allora la richiesta di remissione dei giudici per legittimo sospetto fu dovuta all'informazione che veniva data dall'emittente locale Espansione TV per quello che accadeva prima delle udienze e subito dopo le udienze la richiesta di remissione fu respinta come fu poi respinta la richiesta di ricusazione dei giudici quando la Corte d'Assise formò la prova in aula ma diciamo che fin dall'inizio noi riportiamo il retroscena di quello che avvenne nel corso di quei processi la stampa sembrava fare il tifo per la condanna senza raccontare i fatti ma soffermandosi come appunto scriviamo sugli sguardi di Olindo sulla love story diabolica tra Olindo e Rosa e quasi mai leggendo gli atti ne faccio alcuni banali esempi all'inizio del processo la Corte d'Assise stralciò oltre 50 testimoni della difesa e la provincia di Como titolò in maniera trionfalistica spazzate via le richieste della difesa senza chiedersi nemmeno quale importanza potessero avere questi testimoni senza nemmeno citarli dopo la interrogatoria in aula del mi pare 18 febbraio del 2008 del comandante Gallorini la stessa provincia di Como aprì con una prima pagina e una doppia foto che io ti ho girato nella quale nella prima foto c'era Olindo con lo sguardo torvo dietro alle sbarre nell'altra c'era l'immagine rassicurante di un carabiniere in divisa che era il carabiniere il maresciallo Gallorini e il titolo era ma voi di chi vi fidate questo è uno degli esempi dopodiché andiamo a raccontare quello che fu l'impatto del grande abbaglio perché quando uscì il grande abbaglio noi fommo presi di mira quando ipotizzammo che ci fosse un comando fommo derisi quando raccontammo all'interno di quel libro quello che emergeva dagli atti e cioè che a Rosa erano state lette tutte le dichiarazioni del marito la provincia di Como fece una cosa a mio modo di vedere surreale non si prese cioè la briga di andare a verificare se quello che avessimo scritto fosse vero andando quindi a leggersi i verbali e c'è una cosa diversa andò dall'avvocato d'ufficio di Olindo Romano e Rosa Bazzi quello che poi era stato cambiato ovvero l'avvocato Troiano e andò a chiedere semplicemente ma è vero che a Rosa sono state rilette tutte le dichiarazioni del marito e l'avvocato Troiano rispose non mi risulta proprio la provincia di Como l'ha chiusa così in questa maniera senza neanche darci la possibilità di replicare in questa maniera io e Felice Mantri sembrammo degli sciacalli che volevano speculare sulla strage di erba e in questa maniera fummo trattati eppure negli atti c'era ben altro negli atti c'era scritto che a Rosa erano state ripetute tutte le dichiarazioni del marito agli atti c'era scritto che l'avvocato Troiano non solo non si era opposto alla rilettura ma addirittura si era premurato che Rosa confermasse la versione esatta del marito perché Rosa stava confermando la versione sbagliata che le veniva riletta questo è tutto agli atti è nei verbali è negli interrogatori atti e interrogatori che nessun giornalista all'epoca si prese la briga di leggere e ascoltare e lasciò così l'avvocato Troiano mentire in maniera spudorata davanti all'opinione pubblica perché come giustamente ricordi è agli atti non solo che lui era presente ma che correggeva la Rosa perché Rosa stava confermando una versione e lui dice no questa è la prima versione lei deve confermare la seconda perché la seconda è diversa sì sì la seconda è diversa ecco questo è un passaggio fondamentale ed è un passaggio però fondamentale nel momento in cui lui sui giornali smentisce questo fatto perché come hai detto tu questo è un processo in corte d'assise dove i giurati sono per la gran parte cittadini comuni che leggono i giornali guardano la tv e magari leggono meno gli atti tanto che in sentenza io ho scovato tre leggende metropolitane che non hanno alcun riscontro negli atti tra l'altro c'è anche un altro problema sull'avvocato assegnato diciamo d'ufficio alla coppia o l'indo rosa che durante alcune durante le loro confessioni almeno in due casi c'è una sovrapposizione di orari inspiegabile in cui l'avvocato avrebbe dovuto trovarsi in due posti diversi contemporaneamente sì questo è un problema che emerse nel corso del processo risultava una sovrapposizione di orari tra gli interrogatori di Olindo e quello di rosa ora l'avvocato essendo uno solo poteva partecipare soltanto a un interrogatorio per volta la corte d'assise risolse il problema dicendo che si trattava di una mera errore di trascrizione recentemente nel corso di un'intervista con le Iene rosa ha detto invece che l'avvocato non era sempre presente agli interrogatori ovviamente questa è la versione di rosa bazzi però c'è un fatto prima del processo era uscito un libro colpevolista prima del processo del 2008 scritto dal giornalista Pino Corrias si chiamava Vicini da Morire ed era edito da Mondadori questo libro fu acquisito a processo perché all'interno c'erano le trascrizioni del video di rosa bazzi con lo psichiatra Massimo Picozzi ma ecco scusami ti interrompo subito per chiederti questo quel video era agli atti quel video è entrato negli atti grazie al fatto che il libro è entrato è stato acquisito a processo ma quindi quella aspetta che altrimenti ci perdiamo su questo passaggio perché questo è la cosa importante in questo libro quando il libro fu acquisito a processo il giornalista venne sentito come testimone il giornalista venne sentito come testimone e gli fu chiesto se confermava tutti i virgolettati che c'erano all'interno del libro e lui li confermò qual è il problema che mi pare a pagina 172 di questo volume il giornalista sentiva Pino Corrie sentiva Pietro Troiano e Pietro Troiano raccontava come i due avessero confessato e diceva che Olindo inizialmente aveva confessato e si era preso tutte le colpe ci siamo? certo sappiamo non essere così però il problema appunto che la prima a confessare è stata Rosa Bazzi come fa l'avvocato Troiano a non saperlo se era sempre presente agli interrogatori? certo questa è la domanda io comunque non mi spiego come faccia a esserci il video di una consulenza psichiatrica senza che questa di per sé finisca negli atti e quindi mi domando chi è che l'abbia disposta e debba finirci tramite un libro che la riporta dentro il processo ci sono tutta una serie di fattori che che contano in questa vicenda ovvero anche all'interno di questo video lo psichiatra ravvisò il fatto che ci fosse una notizia di reato cioè la presunta violenza sessuale di Azzuz nei confronti di Rosa Bazzi ragione per cui tale consulenza filì nel fascicolo del pubblico ministero per quello che riguarda la questione del video io ritengo che questo video sia l'elemento che ha più condizionato l'opinione pubblica tant'è che tuttora se ne parla peccato che pochi sappiano che di quel racconto di Rosa Bazzi non c'è alcun riscontro negli atti numero uno lei dice di aver ingaggiato una lotta furiosa con una persona molto più alta di lei e che pesava decine di chili più di lei e di averla sollevata anche da terra il punto è che la notte stessa Rosa Bazzi fu convocata in caserma e ci rimase diverse ore insieme al marito e sul volto non presentava alcun segno di quella gigantesca lite che lei avrebbe avuto con Raffaella Castagna perché ho detto l'unica cosa che aveva era un cerotino piccolo al dito quel cerotino fu sequestrato e non c'era alcuna traccia delle vittime quindi quello che lei racconta non presenta alcun riscontro ma c'è un altro fatto molto particolare che potrebbe andare a smentire totalmente le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi fermo restando che c'è poi un altro elemento insuperabile di cui poi se vuoi ti parlerò che smentisce queste confessioni ovvero la notte della strage un maresciallo il maresciallo Cappelletti alle 22.50 entrò subito nell'appartamento per fissare alcune tracce ed evitare che si perdessero il maresciallo Cappelletti fotografò e prese come possiamo dire rilevò tutte le tracce che riteneva opportune sostenendo poi nel suo verbale che tutte le tracce erano state trattate con l'hexagon che è un prodotto che rivela se si è sia in presenza di sangue umano e tutte avevano dato esito positivo qual è il punto che entrando nella camera da letto di Raffaella Castagna e Azuz Marzuc all'interno delle ante dell'armadio lui rilevò degli schizzi di sangue tanto che nel rapporto scrisse che evidentemente qualcuno era stato colpito lì e annunciò poi che nella relazione del RIS ci sarebbe stato l'argomento sarebbe stato approfondito purtroppo nella relazione del RIS di queste tracce di sangue non c'è alcuna traccia segno che evidentemente i RIS non prelevarono quelle tracce e che evidentemente non acquisirono quanto riportato dal maresciallo Cappelletti che tuttavia aveva accompagnato il suo rapporto con 13 fotografie inerenti quegli schizzi di sangue ma questo che cosa significa? Significa che evidentemente Raffaella Castagna non fu aggredita sulla porta come dicono Olindo Romano e Rosa Bazzi nelle loro confessioni poi ritrattate ma l'aggressione iniziò nella sua camera da letto quando aveva aperto le ante dell'armadio all'interno dei quali ci sono gli schizzi di sangue perché questa cosa oggi è importante e ai processi invece proprio per il fatto che non c'era nulla nella relazione del RIS si cercò di soprassedere su questo aspetto per quanto Cappelletti avesse confermato in aula di aver trovato degli schizzi di sangue all'interno dell'armadio perché abbiamo la consulenza dell'ingegner Rabetti il quale dai consumi elettrici dell'abitazione confrontati con tutti gli elettrodomestici che erano presenti in casa ha concluso che sicuramente c'era già qualcuno in casa il giorno in cui ci fu la strage e questa cosa andava anche a conferma delle dichiarazioni dei siriani che abitavano al piano di sotto i quali dichiararono di aver sentito dei passi nell'appartamento di Raffaella Castagna due ore prima della strage quindi è verosimile a questo punto i tasselli del puzzle si compongono che qualcuno dall'interno avesse colpito Raffaella Castagna mentre si trovava nella sua camera da letto ecco questo è un dato di estremo rilievo anche perché poi voglio ricordare sulla scena del crimine furono trovati due mazzi di chiavi che nessuno riconobbe ammettiamo che uno fosse di Raffaella Castagna di chi era l'altro non era di Paola Galli perché il marito Carlo Castagna dirà che il loro mazzo di chiavi l'aveva trovato a casa non era di Azuz Marzuc perché quello di Azuz Marzuc fu ritrovato in un cesto nella cucina soggiorno di chi erano quelle chiavi non solo altre tracce della presenza di qualcuno in casa sono dati dai cassetti gettati gettati a terra che dava l'impressione di qualcuno che stesse cercando qualcosa e da 19 mozziconi di sigaretta divisi in due posaceneri sul terrazzo di Raffaella Castagna che poi furono illecitamenti distrutti al tribunale di Como nonostante l'espresso di vieto di due giudici poche ore prima che la Cassazione ne autorizzasse l'esame il punto di questi 19 mozziconi di sigaretta che Raffaella Castagna non fumava sua mamma non fumava e Azzuzza era partito per la Tunisia il 2 di dicembre dal porto di Genova le chiavi a cui tu ti riferisci sono chiavi di cui noi sappiamo per certo che aprissero la porta di quell'appartamento la cosa che ti potrà sembrare strana è che io non ho trovato alcun verbale in cui siano state provate quelle chiavi sulla porta di casa quindi non lo sappiamo neanche noi sappiamo soltanto che ci sono quei due mazzi di chiave che nessuno ha riconosciuto e che non appartengono né a Paola Galli né ad Azzuz Marzuc uno magari ha detto poteva appartenere a Raffaella Castagna perché furono trovati due mazzi di chiavi ma l'altro non si sa tuttora chi appartiene comunque quello che dici è diciamo sconvolgente dal punto di vista della narrazione acquisita chiamiamola così cioè in realtà della verità processuale perché scompagina completamente tutta la dinamica l'altra volta abbiamo già parlato quando sei stato qua l'ultima volta della questione della perizia sul consumo di corrente elettrica e già quello insomma è un elemento importante questa volta prendo degli schizzi di sangue sul armadio e quindi sono due elementi convergenti la cosa che chiaramente uno si domanda immagino che chi ci sta ascoltando si chiederà è come sia possibile che degli schizzi di sangue quindi così rilevanti per il caso di studio scompaiano da un giorno all'altro e di fatto vengano tralasciati e dimenticati nella ricostruzione di una dinamica perché è un'informazione quella che ci stai dando che è spaventosa sì io questa è una domanda che continuo a farmi purtroppo in quella relazione non c'è alcuna traccia di quanto rilevato dal maresciallo Cappelletti che ribadisco entrò sulla scena del crimine alle 22.50 fino alla mattina successiva quando diede il cambio al RIS ed entrò nella scena del crimine insieme al pubblico ministero di turno che era Simone Pizzotti e al procuratore capo Lodolini proprio per fissare alcune tracce prima che la scena del crimine fosse inquinata c'è un altro aspetto tu la volta scorsa mi avevi chiesto delle vie di fuga sì io ti avevo detto che ne avrei trattato in una successiva puntata del podcast poi invece mi sono messo a scrivere con felice questo libro e abbiamo trascurato per un po' il podcast e quindi volevo risponderti su quella domanda che mi avevi fatto l'altra volta le vie di fuga le vie di fuga non erano moltissime la prima via di fuga poteva essere il terrazzino di casa castagna sulla quale fu ritrovata una macchia di sangue una volta giunti su quel terrazzino gli assassini si sarebbero potuti calare dal terrazzino oppure salire sui tetti la seconda via di fuga è dalla mansarda di casa Frigerio Cherubini dove secondo la difesa e dove secondo qualsiasi logica la donna fu uccisa i verbali non hanno mai chiarito se quella porta finestra fu trovata aperta oppure chiusa perché ci sono dei verbali contrastanti di fatto sui tetti nessuno controllo nulla perché il comandante Gallorini disse di aver controllato lui a occhio e che quindi escludeva che ci fossero tracce di sangue ma tu mi insegni che a occhio non è un metodo esattamente scientifico non dovrebbe la terza via di fuga era una finestra posta alla fine della prima rampa di scale alla seconda rampa di scale che però dava sempre sulla corte a un'altezza più alta con il rischio però di essere visti un'altra via di fuga era un appartamento in quel momento sfitto disabitato e i carabinieri hanno detto che però quell'appartamento risultava disabitato non si sa altro l'ultima via di fuga ovviamente è il cancelletto principale il cancelletto principale ovviamente va escluso per l'indoromano e rosa bazzi e va escluso per chiunque fosse grondante di sangue scusami cancelletto principale che però per arrivarci significava comunque ripercorrere al contrario le scale e trovarsi davanti le persone esatto ci siamo ora noi nel grande abbaglio avevamo raccontato un fatto molto strano ovvero il primo soccorritore che entrò nel palazzo Glauco Bartesaghi a un certo punto si trovò davanti una persona davanti all'appartamento dei siriani i siriani erano Abdel Karim Kalouf e sua moglie Eba Baddura chiese il telefonino per chiamare il 115 e poi fece in modo che questo telefonino fosse dato alla moglie Claudia Canali per chiamare il 115 e avvertire che c'era un incendio in corso qual è il punto i siriani quando raccontarono quello che era successo quella sera dissero che a un certo punto un ragazzo aveva bussato alla finestra della loro abitazione avvertendoli che c'era l'incendio e che dovevano uscire e loro uscirono tutte insieme Monica Mengacci che la moglie del secondo soccorritore ovvero Vittorio Ballabio raccontò di aver visto i siriani cioè Kalouf Baddura e i loro due figli uscire e andare via tutti insieme dal cancelletto allora noi ci chiedemmo come è possibile che Glauco Bartesaghi avesse trovato una persona da sola davanti alla porta dei siriani se erano usciti tutti insieme questa è un'ipotesi che noi scriviamo nel grande abbaglio nel corso del processo quando fu sentito Kalouf a Como Kalouf inizialmente disse di non aver prestato il suo telefono a nessuno successivamente lui era lì con un traduttore un interprete disse invece di aver prestato il telefono a qualcuno ora quindi siamo sicuri che quella persona davanti all'appartamento dei siriani fosse Abdel Karim Kalouf la difesa oggi scrive evidentemente avrà le sue ragioni che quella persona che vide Bartesaghi non era Abdel Karim Kalouf era verosimilmente il palo del commando abbiamo quindi noi cercato i siriani che non vivono più in Italia e abbiamo scritto loro avendoli rintracciati a Damasco la risposta che ci è arrivata quando abbiamo chiesto se loro fossero usciti tutti insieme se avessero prestato il telefono a qualcuno la risposta che ci ha dato e Babadura è che loro erano andati via tutti insieme esattamente come aveva testimoniato Monica Mengacci e che suo marito non prestava il telefono a nessuno suo marito sarebbe tornato indietro più tardi insieme ad alcuni parenti per capire che o alcuni conoscenti per capire che cosa fosse successo e questo ovviamente è in totale disaccordo con l'incontro che Bartesaghi fece con una persona evidentemente extracomunitaria davanti all'appartamento nei siriani domanda diciamo banale non si poteva semplicemente acquisire i verbali del traffico telefonico e capire se effettivamente il suo cellulare era coinvolto o no togliendoselo una volta per tutte i tabulati telefonici possono essere acquisiti nei primi due anni esiste una legge che impedisce di andare indietro oltre i due anni per l'acquisizione del traffico telefonico non solo noi andammo a cercare sui verbali dei vigili del fuoco qual era stato il numero di riferimento che aveva dato Claudia Canali quando li aveva chiamati Claudia Canali ovviamente aveva dato però il suo numero di casa e non il numero di cellulare non era stato appuntato neanche dal centralino il numero di cellulare da cui era partita la richiesta di soccorso altrimenti certo già all'epoca ci saremmo mossi in altro modo almeno io e Felice Mantri nella nostra inchiesta giornalistica certo chiaro beh sono notizie interessanti diciamo queste credo che sconvolgeranno anche chi ci sta ascoltando nonostante credo che in questo caso come anche altri casi giudiziari ma ultimamente molto questo stia sconvolgendo un po' tutti quelli che stanno iniziando magari a scoprire delle cose su cui voi avete lavorato già a partire da quegli anni lì ma che poi sono diventate note al grande pubblico solo molto tempo dopo e come raccontate anche in un clima non sempre favorevole c'è un altro mistero che emerge in merito a Mario Frigerio ovvero noi abbiamo sempre saputo quella che è la versione di Mario Frigerio in aula cioè in aula lui disse che dal momento in cui Gallorini il 20 dicembre del 2006 gli aveva fatto il nome di Olindo Romano lui da quel momento si era liberato di un peso e aveva detto a tutti che ad aggredirlo era stato Olindo come ti ho detto in apertura questo fatto non è vero perché viene smentito dalla voce stessa di Frigerio nei giorni 22 24 26 di dicembre e viene smentito anche dalle prime sommarie informazioni del figlio Andrea e della figlia Elena rispettivamente il 21 e il 23 dicembre all'ufficio di polizia di stato dell'ospedale di Como ma c'è un dettaglio in più ovvero questo dettaglio noi lo abbiamo notato proprio sulla richiesta di revisione di Tarfusser e questa è la cosa a cui non avevamo mai pensato ovvero se davvero Mario Frigerio il 20 dicembre avesse riconosciuto in Olindo Romano il suo aggressore cosa che ribadisco è già smentita dagli audio successivi mai entrati in processo per quale ragione come nota Tarfusser il verbale relativo a quel presunto riconoscimento viene stilato da Gallorini e da due ufficiali ma questi due ufficiali non hanno firmato questo verbale ovvero subito dopo quell'incontro asseritamente subito dopo quell'incontro Gallorini avrebbe stilato un'annotazione di servizio nella quale si scriveva che era andato a incontrare il testimone insieme a due ufficiali dei carabinieri e che Frigerio in quell'occasione gli aveva detto che l'aggressore poteva essere l'Ulindo dall'audio tutta questa cosa non risulta dagli audio successivi tutta questa cosa non risulta sarebbe l'audio del famoso è stato l'Ulindo poi manipolato no questo è quello del 15 dicembre quello è precedente qui è quando lui avrebbe cambiato versione da quando mi ha fatto lui il nome ok ora si domanda Tarfusser ma se l'avesse riconosciuto davvero in quell'occasione perché il colloquio è stato interrotto perché i pubblici ministeri arrivano addirittura dopo sei giorni e non si precipitano perché quello è il momento più importante dell'inchiesta allora noi ci siamo chiesti quando è che è stato trasmesso questo verbale visto che c'è stato questo riconoscimento alla procura e per molto tempo noi il verbale di trasmissione di questa annotazione di servizio alla procura non lo abbiamo trovato lo troviamo in maniera del tutto casuale quando ci occupiamo dei contatori dell'Enel perché quello che era stato il verbale in teoria che aveva dato la svolta a tutta l'inchiesta viene trasmesso alla procura con una notazione anonima tipo colloquio investigativo con il testimone una cosa di questo genere unitamente a dei tabulati dell'Enel mentre noi ci si aspettava tutt'altro soprattutto la data di trasmissione è il 7 gennaio del 2007 il giorno prima degli arresti e questa cosa è sospetta non è possibile tant'è che la difesa l'ha presentata tra le nuove prove sostenendo di fatto che evidentemente quel verbale fu stilato nei giorni successivi e che quindi quel giorno non ci fu alcun riconoscimento questo è un altro carico da 90 diciamo già diciamo al di là io mi limito a raccontare quelli che sono i fatti sicuramente è stato trasmesso il 7 gennaio sicuramente è stato fatto con una dicitura anonima sicuramente non può essere stato quello a quel giorno lì a cambiare l'inchiesta certo ad avviare il nuovo corso tanto che appunto i giorni successivi Frigerio non ricordava assolutamente nulla degli aggressori d'altra parte insomma questo si aggiunge a quello che in realtà è già noto abbiamo già raccontato per esempio l'audio che citavo prima fatto ascoltare dall'iPod di uno dei giurati sì perché questa è una cosa come possiamo dire che tuttora in particolar modo una trasmissione televisiva sta cercando di tirar fuori come un audio genuino mi riferisco alla trasmissione quarto grado come se non sapessero le cose che sto per dirti che sono pacificamente inatti ovvero nel corso del processo di primo grado la corte d'assise fece una cosa che non ha alcun precedente formò la prova in aula fece sentire l'audio del 15 dicembre del 2006 in cui Frigerio stava descrivendo una persona olivastra più alta di lui anzi più alta di lui sapremo il giorno successivo una persona olivastra mai vista prima e invitava a cercarla tra gli extra comunitari che frequentavano l'appartamento di Casa Castagna nel corso del processo la corte fece sentire l'audio in cui Frigerio sembrava dire è stato olindo questa cosa non era possibile per tutta una serie di ragioni primo e con questo con questo audio qua chiusero il processo dicono che non era assolutamente necessaria alcun'altra perizia e chiusero il processo ma questa cosa non era possibile primo perché Frigerio stava appunto parlando di una persona olivastra mai vista prima a domande precise rispondeva mai visto e invitava a cercarlo tra gli extra comunitari di Casa Castagna alla fine di questo interrogatorio veniva stilato un verbale e proprio alla fine di questo verbale c'era il post scrittum che l'appartamento di Raffaella Castagna era frequentato da extra comunitari di etnia araba in quel post scritto non aveva fatto scrivere è stato lindo ok aveva fatto scrivere extra comunitari ok il giorno successivo il suo avvocato mandava un fax in procura dicendo che il suo aggressore aveva i capelli neri quasi rasati e non è Olindo ed era più alto di lui tra i 6-10 cm e Olindo è più basso di un centimetro non scrive l'avvocato nel fax guardi che ha detto è stato lindo questo audio questa frase è stato lindo infatti non l'avevano sentita né i periti della corte d'assise né i consulenti dell'accusa né i consulenti della difesa ma soprattutto non l'avevano sentita né il PM Simone Pizzotti né il figlio Andrea che era presente né l'avvocato Manuel Gabrielli né il neurologo dell'ospedale Claudio Cetti né l'ispettore di polizia giudiziaria che stava trascrivendo non l'aveva sentita nessuno e nemmeno Mario Frigerio di più il 20 dicembre il colloquio tra Gallorini e Frigerio dura un'ora e alla fine di quell'ora che Gallorini dice a Frigerio le ho messo il dubbio quindi come faceva Frigerio ad aver riconosciuto Olindo cinque giorni prima se ci aveva messo un'ora Gallorini a mettergli il dubbio che l'aggressore fosse Olindo ecco in appello venne depositata una consulenza dell'ingegnera Raffaele Pisani da parte della difesa con tanto di spettrogrammi che documentava come quell'audio fosse stato modificato con il programma Cool Edit 2000 per la modifica del suono che aveva trasformato la frase stavano uscendo in è stato Olindo anche se tuttora questa cosa qualcuno finge di non saperla il problema quale è che pur avendo la corte d'assise d'appello accettato questa consulenza della difesa che rispondeva anche a cose logiche tipo quella che nessuno l'aveva sentita non riaprì nonostante tutto questo il dibattimento e respinse due degli audio che oggi arrivano come nuove prove che io scoprì nel 2010 nel quale Mario Frigerio il 22 e il 24 dicembre parlando con i figli e con l'avvocato non ricordava assolutamente nulla dell'aggressore ma come c'è finito questo audio manipolato con il programma Cool Edit 2000 nell'iPod di un giurato questo io non te lo so dire io so solo che un giorno la corte è uscita ha fatto sentire questo audio hanno detto non è più necessaria alcuna perizia mi pare che ci sia tutto chiaro queste furono le parole del presidente Bianchi dopo questo fatto la difesa che aveva già chiesto la remissione del processo per legittimo sospetto per il clima che si era creato con la stampa locale ricusò i giudici ma esattamente come per la prima richiesta questa richiesta fu respinta d'altra parte devi pensare a quello che era il clima di quel periodo già dopo l'udienza preliminare l'avvocato di Azzuz prima ancora il processo l'udienza preliminare l'avvocato di Azzuz Roberto Tropenscovino disse che in certi casi sarebbe giusto ripristinare la pena di morte e nessuno disse nulla in questo caso perché c'era un clima contro l'Indo Romano e Rosa Bazzi che era un clima veramente infernale questo è quello il clima in cui ci siamo trovati tutti quanti dove lo stato di diritto fu sostanzialmente sospeso perché qualsiasi istanza della difesa finì in un cestino ma infatti tu parli di questo clima abbiamo accennato prima al clima da parte della stampa ma qua nel libro tu riporti il contro interrogatorio Frigerio sì l'ho voluto portare integrale per far capire in quali condizioni gli avvocati furono costretti a interrogare il testimone dove venivano continuamente interrotti le domande venivano rigettate e come possiamo dire il giorno dopo la stampa locale aprì con un virgolettato di Frigerio avvocate vergognatevi e questo è quanto c'era all'epoca e questo questo clima lo si è vissuto per molto tempo paradossalmente di questo caso hanno iniziato ad occuparsene un po' di più alcuni giornalisti proprio dopo la Cassazione forse per il fatto che alla vigilia della Cassazione Azuz Marzuc ripresa a dire che Olindo e Rosa non erano colpevoli e da allora non ha più cambiato idea perché tanti dicono che lui lo fece solo in quel momento in realtà al processo di Como lui già nutriva forti i sospetti tanto che prima che la Corte rientrasse in Camera di Consiglio Azuz fu chiamato sul Banco dei Testimoni per una ragione molto semplice ovvero la Polizia Penitenziaria di Vigevano dove lui era rinchiuso aveva mandato una comunicazione al Tribunale alla Corte d'Assia spiegando che Azuz nutriva fortissimi dubbi sul fatto che Olindo e Rosa fossero colpevoli stiamo parlando del 2008 ancora e questo perché una persona era andato a Zaguanda e i suoi genitori una persona di cui poi si sono perse le tracce non si è mai saputo chi fosse e aveva detto che gli assassini non erano né Olindo né Rosa chiamato sul banco dei testimoni a Azuz in quel momento negò tutto e riprese a dire che i due erano innocenti alla vigilia della Cassazione ed allora non ha più cambiato idea però diciamo che con la testimonianza di Abdi Cais e con quello che poi è emerso su quella che era la realtà del traffico di droga a Erba questi suoi dubbi sono più che giustificati beh insomma più che giustificati c'è un investigatore che dice in realtà di essere certo della colpevolezza di Olindo perché l'ha visto dai suoi occhi già nelle eminenze della strada questa cosa qua fu come possiamo dire applaudita dalla stampa ma queste sono cose che nemmeno in una puntata del tenente Colombo potresti vedere no? cioè come si può sostenere seriamente che un investigatore è così bravo da capire se uno è un assassino dagli occhi cioè queste sono cose che non hanno a che fare con delle indagini e con e con dei riscontri oggettivi sembra un poliziesco di serie B perché in effetti come ho detto quando lui quando il comandante Gallorini va da Frigiero a chiedergli se la persona che ha visto sia esattamente il contrario di quella che ha descritto contro Lindorosa non c'è nulla perché i rischi hanno già escluso che ci fosse sangue su quei panni appena lavati non c'era niente come lui abbia avuto queste intuizioni soltanto dagli occhi rossi io non riesco a spiegarmelo però so che le indagini sono state indirizzate unicamente contro Lindoromano e Rosa Bazzi all'interno del libro spiego anche perché quali sono gli atti che sono stati trascurati quali sono le piste che sono state trascurate nonostante gigantesche discrasie e infatti e infatti insomma questo si evince anche dalle ultime cose che non bastassero insomma quelle viste fino ad oggi vorrei chiederti una cosa però che a me interessa molto ed è la vicenda che riguarda proprio la persona che abbiamo citato più volte cioè il magistrato Kuno Tarfusser vorrei chiederti di raccontarci e di spiegarci che cosa è successo a Tarfusser dopo aver depositato questa richiesta di revisione del processo sostanzialmente è stato chiesto dal procuratore generale di Milano Francesca Nanni un procedimento disciplinare perché avendo lui chiesto la revisione in autonomia senza consultare il suo capo avrebbe sostanzialmente disobbedito a quello che è il codice dell'ufficio della procura generale su come è strutturato la generarchia diciamo esatto proprio il regolamento interno alla procura generale di Milano quindi che vale per la procura generale di Milano ogni procura generale da quanto ho capito ha un suo proprio regolamento interno di certo questa cosa qua però non poteva inficiare l'autonomia del magistrato tanto che noi scrivemmo subito che sicuramente la richiesta di revisione da parte di Tarfusser sarebbe finita a Brescia e fumo gli unici a scriverlo ma non poteva che essere così perché un regolamento interno a una procura non può essere certamente superiore alla legge e al codice ragione per cui alla fine appunto il procuratore generale di Milano non anni ha trasmesso la richiesta di revisione di Tarfusser a Brescia ora l'ha accompagnata con una richiesta con un parere negativo ma come sottolinea la difesa questo parere negativo in realtà non ha alcun non dovrebbe avere alcun peso nel corso del processo di revisione perché l'unico parere che potrebbe chiedere la corte d'appello di Brescia è il parere della procura generale di Brescia non di Milano Milano ha proposto la richiesta di revisione attraverso il sostituto PG Tarfusser del resto del parere del procuratore generale Francesca Nanni e del parere dell'avvocato dello Stato non dovrebbe esserci alcun peso questo sostengono le difese in un aspetto che è molto diciamo tecnico certo tra l'altro ricordiamo brevemente di chi si sta parlando perché magari non tutti sanno chi è il dottor Kuno Tarfusser è un magistrato che ha una certa esperienza in lunghissimo corso già procuratore di Bolzano e già vicepresidente della corte penale internazionale l'uomo che ha istruito i mandati i procedimenti contro Gheddafi contro il presidente del Sudan e si è occupato di criminali di guerra insomma stiamo parlando di una personalità di un prestigio internazionale cioè Kuno Tarfusser è riconosciuto in tutto il mondo ecco assolutamente tornando ai fatti diciamo e alle cose su cui avete indagato e si è indagato perché è così importante capire la storia dell'automobile con cui la mamma della castagna è arrivata a casa sua si parla della lancia K della panda cosa c'è di così importante una macchina vale l'altra ora succede questo che nella sentenza della corte d'assise di Como viene anche scritto che se Olindo Romano e Rosa Bazzi fossero stati innocenti non avrebbero mai potuto sapere che quella sera Paola Galli era arrivata nella corte con la macchina del marito con la lancia K del marito e non con la sua panda ma in realtà questa è una delle più grosse bufale che potessi trovare in sentenza perché che quella sera Paola Galli fosse arrivata con la lancia K del marito lo sapevano tutti lo documentano le immagini di quella notte perché la macchina fu portata via dalla corte a tarda notte quando la folla si era ormai diradata e tutti nella corte sapevano che quella sera Paola Galli era arrivata con la lancia K tanto che era argomento di discussione di tutti gli inquilini ci sono le sommarie informazioni del vicino di casa di Olindo Romano Lazzarini ci sono le sommarie informazioni di due ex inquilini della corte Daniela Messina e Matteo Arcaini che parlano della lancia K quindi significa che tutti sapevano della lancia K soprattutto ci sono delle intercettazioni di Olindo e Rosa in cui il 17 dicembre del 2006 Daniela Messina e Matteo Arcaini giunti a casa di Olindo e Rosa parlavano proprio di questo della lancia K che utilizzava quella sera Paola Galli una cosa stranissima e ne discutevano tutti e addirittura Daniela Messina e Matteo Arcaini dicevano che questa cosa era uscita sui giornali e ne avevano parlato perfino in tv ora come questa notizia potesse passare poi al processo come notizia riservata che sapevano soltanto i colpevoli io questo non me lo spiego se non per il fatto che appunto i giurati furono poco attenti ai fatti e agli atti e si basarono soltanto su quelle che erano suggestioni scritte al momento del processo dalla stampa locale non è peraltro questa l'unica sentenza l'unica leggenda metropolitana in sentenza una credo di avertela già raccontata cioè i giudici di Como scrissero che era molto strano riprendendo quello che aveva detto il PM Massimo Astori nella requisitoria che Olindo Romano e Rosa Bazzi non parlassero mai della strage mentre tutti gli altri ne parlavano in realtà Olindo Romano e Rosa Bazzi parlavano soltanto della strage quando erano in casa loro il punto è appunto che nel fascicolo del dibattimento furono fatte entrare meno di dieci intercettazioni a fronte di migliaia di intercettazioni di Frigerio e di Olindo e Rosa in quelle intercettazioni loro parlavano esclusivamente della strage ma certo c'è un punto tra una certa ora del 12 dicembre e una certa ora del 16 dicembre in cui agli atti non c'è nulla ma sono i carabinieri che non hanno allegato nulla e non hanno allegato neanche un verbale di giustificazione per giustificare questa assenza e questa è una cosa che non è possibile ma di fatto è per quello che non si sentono parlare perché agli atti non è stato allegato nulla ma le microspie si dovevano attivare anche se loro fossero stati zitti perché infatti quando loro poi vengono arrestati prima dello smaltimento del servizio quando ci sono rumori dall'esterno le microspie si attivano quindi perché non ci sia nulla noi non lo sappiamo raccontiamo poi nella seconda parte tutto il mistero della scomparsa delle intercettazioni di Olinda Rosa e di Mario Frigerio e della società che si occupò del filtraggio di queste intercettazioni la terza leggenda metropolitana è quella che i giudici sempre della corte d'assisi di Como sottolineano e cioè loro scrivono che era Olinda Rosa sospettavano di essere intercettati tanto che Olinda smontò un citofono alla ricerca di microspie anche questo fatto viene smentito dalle intercettazioni della coppia intercettazioni successive nelle quali emergeva chiaramente come il citofono era rotto e a ripararlo erano stati i carabinieri e infatti di questo avevamo parlato ma una cosa che ho appreso leggendo sempre questo libro un altro fatto inquietante che riguarda delle frequentazioni chiamiamole così non tanto di Azuz Marzuk il quale se vi ricordate insomma se si ricorda anche chi ci segue a un certo punto dopo la strage divenne qualcuno disse ce lo ritroveremo al grande fratello all'isola dei famosi senza avere troppi torti poi Mazzuk verrà diciamo si ritroverà in certi giri diciamo dell'ambiente anche della comunicazione chiamiamola così Lele Mora eccetera però in queste occasioni voi riportate che alcuni di questi incontri a Azuz Marzuk facendo un bagno di folla credo proprio insieme a Lele Mora correggimi se sbaglio si trova in un certo locale della provincia di Como un locale però particolare perché allora non si sapeva ma dopo qualche anno è saltato fuori che fosse un po' il crocevia non proprio solo della malavita ma di una particolare diciamo malavita che è la Andrangheta calabrese si ora il punto è il seguente oggi si parla di circo mediatico no? dicono gli innocentisti hanno fatto il circo mediatico io vorrei ricordare proprio la risposta che diede espansione tv alle accuse che fece la difesa e cioè che in televisione avveniva di tutto in quell'emittente il direttore rispose dicendo che le accuse erano false che loro avevano invitato sempre tutte le parti civili e gli unici e anche la difesa e gli unici a non partecipare mai a questo a questa loro trasmissione era stata proprio la difesa io vorrei che la gente ricordasse questo che un circo mediatico ci fu e l'unico a non parteciparvi fu la difesa perché ti dico questo perché Azzuz dopo l'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi fece parte di questo circo mediatico andava in televisione a pagamento naturalmente quando sosteneva l'accusa contro Olindo Romano e Rosa Bazzi in questo stesso contesto Azzuz aveva una persona che era diventata una sorta di sua ombra in quel periodo una persona che si chiama Francesco Crivaro nell'indagine crimine infinito del 2010 la procura di Milano scoprì una locale di indrangheta a Erba oltre che in altre città della Lombardia Francesco Crivaro quello che era diventato l'ombra di Azzuz era un elemento di spicco di questa locale di indrangheta a Erba ed era il titolare di questo locale di cui tu facevi ceno che era il coconut all'interno del quale secondo gli inquirenti si svolgevano proprio i summit di indrangheta secondo un pentito considerato tra i più affidabili dagli inquirenti e dalle sentenze che si chiama Francesco Oliverio e che era l'ex capo del del clan di Belvedere Spinello l'indrangheta Erba trattava qualcosa tipo 300 kg di droga a settimana ora perché questa cosa dal mio punto di vista può essere importante perché Oliverio dice che trattava 300 kg di droga a settimana con gli stranieri quello che ci dice Abdi Cais il nuovo testimone che era residente nell'appartamento di Raffaella Castagna a Zuz Marzuk è che c'era una guerra una faida tra il gruppo che gravitava intorno al fratello di Azzuz di spacciatori tunisini e un gruppo di marocchini che abitava a Merone erano arrivati ad accoltellarsi e poco tempo prima proprio a Merone avevano evitato un assalto all'arma bianca da parte dei marocchini che era esattamente la replica di ciò che sarebbe accaduto successivamente a Erba quello che io ritengo e anche Felice ovviamente ritiene è che se l'andrangheta trattava così tante quantità di droga con gli extracomunitari verosimilmente poteva essere anche a conoscenza della faida tra bande di spacciatori per il controllo del territorio questa è la cosa che a noi ha dato modo di pensare e se pensiamo al racconto di Abdikais se pensiamo al primo riconoscimento di Frigerio se stiamo alle all'uomo visto da Bartesaghi davanti all'appartamento dei siriani e se stiamo alle sommarie informazioni rilasciate da un dirimpettaio dell'appartamento di Raffaella Castagna ovvero Fabrizio Manzeni e a quelle di un uomo senza fissa dimora Benbraim Cenkum che dicono entrambi di aver visto degli extracomunitari fuori dalla corte di via Diaz agitarsi con telefoni Cenkum parla anche di un urlo che può essere quello di Raffaella Castagna della parola assassino della parola aiuto che sono benzina che potrebbero essere quelle dette da Valeria Cherubini noi vediamo che questa pista potrebbe essere serenamente portata avanti anche perché la guardia di finanza stava già monitorando prima della strage l'appartamento di Raffaella Castagna Zuzmarzuk in un'inchiesta coordinata sempre dal pubblico ministero Massimo Astori e che porterà proprio all'arresto di Zuzmarzuk dei suoi parenti e dei suoi sodali per traffico di droga il problema quale è che la difesa ha chiesto di avere accesso alle intercettazioni e agli atti di quel processo e la richiesta è stata sempre rifiutata la cosa giuridicamente meno comprensibile è che la stessa richiesta di avere gli atti e le intercettazioni l'abbia fatta Abdikais che in quel processo era stato condannato e anche a lui questi atti e queste intercettazioni sono state negate questa è una cosa che francamente giuridicamente faccio fatica a comprendere essendo la persona direttamente interessata da quegli atti è chiaro e in effetti è un po' strana da giustificare e da ascoltare scusa solo un'ultima cosa volevo dirti di cui parliamo all'inizio del libro e che però è una cosa se ci pensi strana e noi notiamo subito come strana rispetto a quello che è il pensare comune ovvero quando la difesa decise di non fare il rito abbreviato per Olindo Romano e Rosabazzi di andare al dibattimento furono bersagliati e presi di mira e quasi rimproverati dall'accusa e dalle parti civili questa cosa secondo me è sorprendente che le parti civili volessero e anche l'accusa volessero il rito abbreviato perché il rito abbreviato comporta lo sconto di un terzo della pena e una parte civile in teoria la cosa che vuole di più è che il i colpevoli paghino il massimo della pena non che abbiano uno sconto di pena ecco questo è un altro degli aspetti che io ho trovato soltanto nel processo sulla strage di erba tu dici l'interesse ovviamente è quello di andare al rito ordinario perché lì hai la condanna massima con il rito abbreviato invece hai lo sconto di un terzo della pena praticamente leggendo tra le righe quello che si sta dicendo è che il rito ordinario poteva creare forse dei problemi nella condanna cioè forse qualcuno riteneva che non potesse passare al vaglio di un così più approfondito esame sto dicendo io questo ecco io mi limito a commentare quelli che sono fatti dopodiché non tiro conclusioni le tireranno spero quelli della corte d'appello di Brescia quando dovranno analizzare le nuove prove e spero vivamente che stavolta le analizzino a questo proposito che cosa ci dobbiamo aspettare nel senso che quali sono i prossimi passaggi e che cosa avverrà abbiamo sentito sui giornali più volte la data dell'uno del tre di marzo primo marzo cosa succede il primo marzo il primo marzo è stata fissata un'udienza dibattimentale naturalmente se ne può uscire in diversi modi o confermando la condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi o decidendo di approfondire alcuni aspetti decidendo di chiamare qualche testimone io per come racconto nel libro non sono molto fiducioso sia perché mi sono occupato spesso di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari e so per certo che molte volte le richieste di revisione trovano come possiamo dire ostacoli nel fatto che la magistratura tende a fare quadrato intorno a se stessa e poi c'è un precedente su Brescia che tuttora io non riesco a spiegarmi ovvero come sai io non so se te ne ho parlato come sai la difesa ha chiesto per anni che fossero analizzati dei reperti che non erano mai stati analizzati quelli che ho detto che poi alla fine verranno per buona parte distrutti illecitamente al tribunale di Como dopo diversi anni la Cassazione stabilì che ad occuparsi dell'analisi dei reperti dovesse essere la corte d'appello di Brescia si fece l'udienza il presidente della corte d'appello disse che visto quello che aveva stabilito la Cassazione andava fatto certamente un incidente probatorio con l'esame dei reperti mai analizzati e la procura generale di Brescia diede parere positivo perché anche loro da trascrizione letterale che trovi nel libro anche la procura generale non aveva dubbi sul fatto che si dovessero analizzare questi reperti visto quello che aveva stabilito la Cassazione di più si disse che due mesi più tardi sarebbe stato verosimilmente nominato come esperto Lago che è il comandante del RIS all'udienza successiva di due mesi più tardi però l'ufficio di procura tolse il parere favorevole e il presidente della corte d'appello dichiarò inammissibile cosa fosse successo in quei due mesi io non lo so però spiegazioni logiche a questa variazione io non ne ho ancora trovate questo diciamo partecipa a creare quel clima chiamiamolo così che non ti fa essere fiducioso su quello che potrà succedere poi io devi pensare che dopo il grande abbaglio scrissi il caso Genchi che raccontava proprio il mondo della magistratura e non ne ebbi un non ne riportai un bellissimo una bellissima descrizione insomma ecco io purtroppo per quello che ho vissuto sulla mia pelle per quello che ho visto per quello che ho scritto per i documenti che mi sono passati per le mani io non nutro grande fiducia nella giustizia in Italia spero in questo caso di sbagliarmi perché queste persone sono veramente innocenti su questo non ho dubbi neanche io peraltro direi di che si può riprendere la definizione che ne dà Olindo della giustizia perché Olindo ne dà una definizione che secondo me è molto condivisibile nella sua semplicità cioè certamente non stiamo parlando di un giurista ma Olindo secondo me la descrive molto bene per lo stato in cui è certamente non quello in cui dovrebbe essere la trovi in calce al libro credo di aver capito la giustizia è qualcosa in cui spero ancora ma non ci credo più esatto purtroppo è così noi siamo cresciuti tu sei molto più giovane io sono cresciuto con quando dovevo fare la maturità insomma sostanzialmente ci furono le stragi del 1992 in cui morirono Falcone e Borsellino io credo che la magistratura abbia goduto molto di riflesso di personaggi come Falcone e Borsellino però i dati della corte di Strasburgo fotografano una giustizia che è completamente diversa da quella che uno diciamo da quella che è nell'immaginario collettivo l'Italia è il paese più condannato tra i più condannati non solo per la lentezza processuale ma anche per la violazione della seconda parte dell'articolo 6 sul trattato dei diritti dell'uomo i diritti della difesa il che significa che è vero che da noi i processi durano tanto ma in compenso li facciamo male e anche tra i paesi più condannati per violazione della proprietà privata ed intrusione nella vita familiare questo depone come credo di averti detto una volta a sfavore soprattutto della categoria giornalistica che ha abdicato al proprio ruolo e che come documentiamo passo passo in questo libro si limita a seguire le veline degli inquirenti senza mettere nemmeno il naso negli atti e questo è un problema vero nel momento in cui peraltro la categoria giornalistica italiana non è considerata più molto valida dall'opinione pubblica e credo che l'opinione pubblica abbia tutte le ragioni per avere questo giudizio della categoria qualcuno ha mal tradotto sai il detto americano per cui si dice che i giornalisti sono i watchdog i cani da guardia deve avere sbagliato il soggetto però non sono a guardia del potere ma sono a guardia dal credo che sia così io credo che abbiamo detto tante cose tante altre sono riportate nel libro che ricordo a tutti ovviamente vi metto qua sotto il link per acquistarlo lo trovate sicuramente su Amazon o lindo e rosa di Felice Manti Edoardo Montolli chiudo semplicemente chiedendomi chiedendoti tu e Felice Manti in questi anni ormai sono parecchi che vi siete occupati di questa cosa vi siete fatti credo un'idea precisa nella vostra testa io immagino che voi abbiate un'idea di come più verosimilmente secondo voi i fatti sono andati è corretto? sì una parte la accenniamo al termine di questo libro l'altra la scriveremo al momento opportuno occupiamoci prima di vedere che o l'indea e rosa siano scagionati dopodiché daremo spazio a un'altra parte dell'inchiesta ma in questo momento non sarebbe non è importante in questo momento è dimostrare l'importante dimostrare l'innocenza dei due coniugi poi certo ognuno ha un'idea che può essere sbagliata può essere giusta certamente è basata sempre ed esclusivamente sulle carte voli pindarici noi non ne facciamo ti ringrazio grazie a te buona serata grazie a te grazie a te